Oh c'è qualcuno da mangiucchiare di forte qui eh Mangiatelo bravissimo al volo proprio Quando ti dicono un pasto al volo e tra l'altro è anche uno dei potenziamenti migliori che potevamo avere Quello del lanciarazzi fantastico C'è anche una scatola nera E la madonna ma tutto qua vicino oggi eh Eccola qua Madonna mia sei scatole Vabbè che è l'ultima zona ci sta Cabum Ciao ciao Ah è ancora vivo Uh ma un altro ma che culo Vabbè che Ma cacchio Ah va bene Vieni qui Stata tu non c'è Dai ti aspetto vieni qua dai Non mi scappare eh Ecco qua Dai fatti mangiare No Versaglio sbagliato Che cosa ci aumenti? Le lame? I pugni? Ci aumenta Che cosa? La bomba biologica? Ah vabbè ci sta Non era il primo potenziamento come avrei pensato ma non vedo perché dir di no Oh finalmente siamo arrivati Oh c'è anche un'altra scatola nera E senza ulteriori indugi eccoci finalmente a casa di Atena Eccola lì la figliola Ok è laggiù sul tavolo È nella zona rossa So solo questo Forse è in qualche base segreta È viva L'ho sempre Sperato Mi dispiace dirtelo ma credo che sia infetta pure lei E se non lo è è sicuramente Papabile che lo farebbe Eh beh Tu ferma Alex Eh lo so C'hai ragione eh Ci vado subito Mettiamoci i pugni, martello e la lama Oggi andiamo proprio di armi pesanti Tra l'altro scusami Un secondo Se trovate un barile di white light Allertate red crown E trasportatelo immediatamente alla base india 9-6 Un po' credevo di sia Hai sentito? Pare che abbiano capito che il white light sta peggiorando la situazione invece di migliorarla E tanti saluti al piano di Mercer Io credo che in realtà avessi calcolato pure questo sai? Pa 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 ra ra Pa ra 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 Pa ra 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 Allora dammi un secondo C'ho qualcosa da lanciargli? Ho delle panchine Dici che funziona? Dici che è abbastanza per distruggere Le torrette? Direi Un televisore? Mi ha fatto molto ridere la cosa Eccomi qua Sono arrivato A tutte le unità di india 9-6 Qui di red crown Rileviamo presente in fetta in avvicinamento alla vostra posizione Difendetevi fino al completo rilascio del white light Ah beh Allora aspetta Dov'è? Non l'avrei mai immaginato Ma forse è meglio se dai una mano alla blackwatch Porta queste armi all'inceneritore Arrivo arrivo Prima di tutto Occupiamoci di lui Porca miseria E niente Mi devo trasformare Kaboom Dov'è? Ah porca Allora aspetta Prima Occupiamoci Di quello importante A parte che come Quando ho perso il braccio Giusto per capirlo Ecco fatto E zac Ti è tagliato a metà E ora gli altri Chi se ne frega Giusto? Tentacoli migliorati Ah finalmente Ultimo potenziamento dei tentacoli Fantastico E allora Vieni qua Ecco fatto E via un bracetto E lasciamo Che i due gigantoidi Se la occupino tra di loro Ma porca miseria Ecco fatto Vieni qua tu Che così Che così Che se magna E Vieni anche tu Che così Che se magna Zac Ti è tagliato a metà Uh il gigantone Della blackwatch Ce l'ha fatta Sconfiggerlo Io intanto Io intanto Me ne vado Che così Mi nascondo anche fra la folla O meglio Barile distrutto Aspetta 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 che ci arrivo No Il barile Preso Raggiungi l'inceneritore Eh lo so Aspetta Ecco fatto E ora Fermo Aspetta Ecco fatto Zac E' tagliato A metà Meno male Allora iniziamo ad occuparci Di quello grosso Questo Porca miseria Mi ha lanciato Un masso a mezz'aria Eh No scusami Non volevo Prendilo 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 Ecco qua E via il bracetto Che così Hai anche meno difese Ora Che è successo Che è successo Porca miseria Vieni qua Mamma mia Oh E finalmente Allora Facciamo una cosa Più intelligente Qua Evochiamo Anche noi Dei gigantoni Se dobbiamo aiutare Aiutiamoli Nel modo giusto No E io ora mangio Ecco fatto Spero che I miei giganti Siano rimasti Però E quando mai Siamo sotto attacco Ripeto Gli infetti Stanno puntando Al wild ride Ristide 1-3 Qui 3 jacket Inviamo rinforzi Passo 1-3 1-3 Sembra che io Ce l'abbia fatta Passo Aspetta c'è qualcuno In mezzo alla strada Già Ce l'hai proprio fatta Mi spiace Fammi indovinare Ricchiamo il tuo branco E Cacchio Il mio Il mio branco È appena andato a fanculo Perché Guarda un po' È finita La sezione Perché lasciarlo Anche post Che l'ho evocato No 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 Vieni qua Ma porca Non vedo Ah fuck Allora Fermo lì Fermo lì Che me lo devo mangiare Quello Ma porca Ecco fatto Che così Evoco il branco Vedi Appena evoco il branco Madonna mia Ecco fatto E ora Branco sia Ma non riesco Ho sbagliato Gli ho fatti saltare in aria Dovevo Ok E uno Porca Di quella miseria Quanta gente Gente che c'è Levatevi tutti Dalle palle Oh Cacchio Oh Fermo Gente da mangiare Vieni qua Tanti soldati Ormai sono belli Che tranquilli Quello che c'è da risolvere Lo devo risolvere Io Vieni Oh E via Ok Devo ricordarmi solo un attimo i comandi Vieni Non mi ricordo Per farle attaccare qualcuno Allora Fermo C'è un altro Così abbiamo Oh è morto Con R3 Ok Io intanto vado a prendere Il white light Tanto i soldati Adesso hanno capito Che li stiamo aiutando Non gliene frega niente Non gliene frega Assolutamente nulla Ad attaccarmi Ma Eh esatto Finchè c'ho Sta visione Verdognola I miei Amichetti Ci sono quindi Porca miseria Porca miseria No Ok Attaccate lui Io intanto Me la vado Con questo In braccio Intanto che mi inseguono Lo voglio dire Vai 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 Ma è esatto I miei Gigantoni Dove cacchio Sono finiti Mi sa che uno È esploso Sai Mi sa che è esploso Allora 3 2 1 Via E un white light Se n'è andato Attaccate lui Ah beh Sembra giusto Dai Ok Io intanto Continuo a fuggire E a prendere gli oggetti In teoria Abbiamo già preso Quello più Lontano Quindi di conseguenza Mi sa che i miei Ecco Amichetti Adesso sono morti Per davvero Dov'è quello più Lontano Allora Via Prendilo Ok Va bene Va bene Non importa Prendilo Maledizione Ok Preso Via Ok Ce n'è uno forte Ce n'è uno forte Ok Non importa Non importa È più importante No Ok No c'è ancora Dov'è 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 Eccolo Allora Fermi un attimo Artigliamoli Così Tagliamo il braccino Che gli fa Un bel po' Di danno Fermo lì Ecco qua Vieni qua Che ti mangio Levati tu Levati Mamma mia Dov'è È morto Porca miseria Porca Ecco qua E ora mi mangio Te Per ripicca Porca miseria Quello buono Mi ha fatto Mi ha fatto morire Sto stronzo E ok Dopo di questo Ne manca solo uno Eh la nube di White Light Forza Aiutatemi Io intanto Vado a prendere Anche l'ultimo Soggetto Sbagliato Ma non importa Non importa Va benissimo Vai 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 Ecco qua Vai Sbrigati Che ne manca solo uno Manca solamente Quello Prendilo Bravissimo E ora Muoviamoci Prima che appaia Altra gente Corri 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 Attaccate lui Perfetto Ok Lo stanno inseguendo Quindi io posso scappare Tranquillamente Vai Dentro Oh Ecco fatto Troppa gente Fermo Mangiatelo Ok Mamma mia Uff Oh Ce n'è ancora uno Ah è morto Lascio la zona Della base Eh Prima voglio ammazzare Sti stronzi Dopo che li ho uccisi Faccio tutto quello Che vuoi Ecco fatto Vieni qua E via Me ne vado Scusatemi Ora che hai finito Di aiutarci Puoi anche morire El Tan 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 Missione compiuta Rimosso dai ricordi Completata El Si è evoluto Che cosa possiamo Sbloccare con questo Potenziamento Vediamo subito Allora Movimento Salute Che non sarebbe male Mossa finale I veicoli corrazzati Vengono distrutti All'istante Eh Anche se La massa Sarebbe una bella idea Tanto la saluto E bene o male Siamo a posto Ma si dai Andiamo di massa Appena arriviamo All'ultimo livello Di massa Abbiamo ancora più gente Da evocare E più danni da fare Si sta disperdendo Mercer non sarà contento E Maya È al sicuro Per ora Dana Dana Allora Sono Sabrina Galloway Devo parlarle Del progetto Firehawk Sa di cosa si tratta Mi suona familiare Ma perché dovrebbe importarmi Mi creda Le importa Mi raggiunga E ne parleremo Certo Mi invie le coordinate Arriviamo subito